criterium 648 come l'altitudine a cui posta clusone e questa è la sua bellissima piazza dell'orologio che fa da scenario alla manifestazione organizzata dalla scuola ciclismo cene domenica 12 agosto questa è la gara del pomeriggio che ha fatto seguito alla gara degli allievi che già vi abbiamo raccontato il cui video potete trovare sempre sui canali facebook sul sito internet e sulla pagina youtube di bctv categoria juniores questi sono proprio i ragazzi di casa della scuola ciclismo cene ben intenzionati a ben figurare in questa manifestazione ci sono squadre provenienti un po da tutta la lombardia ma anche dal veneto avete visto poc'anzi proprio i ragazzi della osonia csi pescantina formazione della provincia di verone che schiera al suo interno anche alcuni atleti trentini questa è la feralpi formazione bresciana poi rappresentante anche le province di como e della brianza oltre che la provincia di milano prima di cominciare un minuto di silenzio avete visto il ricordo proprio di danilo fiorino fiorina danilo fiorina la cui alla cui memoria è dedicata a questa manifestazione otto le tornate da percorrere come avete visto dal cartello indicatore per questi atleti primo tratto di trasferimento nel centro di crusone fino a via vittorio veneto dove poi viene dato il via ufficiale sono 72 gli atleti della categoria juniores che si presentano alla partenza come vedete questa gara pomeridiana è accompagnata purtroppo dal maltempo pioggia che praticamente accompagnerà l'intera manifestazione da percorrere ci sono 115 chilometri e 700 metri disegnati lungo cinque giri di un primo circuito a corto raggio di 10 chilometri e 700 metri che interessa gli abitati di crusone rovetta le località di san lorenzo fiorine ancora clusone con il passaggio come vedete in questo momento proprio da traguardo dalla piazza dell'orologio di clusone poi nella seconda parte di gara invece sarà affrontato il circuito a più lunga gittata quello di 21 chilometri e 100 metri che interessa poi gli abitati di clusone rovetta fino del monte dove è posto il gpm località poerza onore lo songavazzo novezio cerete alto cerete basso clusone fiorine clusone e quindi il passaggio di nuovo da piazza dell'orologio dove nonostante il maltempo la pioggia c'è stato sempre un pubblico numeroso e caloroso ad applaudire questi giovani corridori e questo che vedete in azione in questo momento è imad secac atleta del team fratelli giorgi campione marocchino in carica della prova in linea che prova l'allungo proprio in queste fasi di gara lo vedete solitario al comando è lui che si fa promotore della prima azione importante e significativa di questo criterium 648 il gruppo che insegue e solamente un corridore riesce ad uscire da questo gruppo e riportarsi su secac lo vedete si tratta del siciliano matteo pio morici della società ciclistica cene il vulcano i due riescono a guadagnare qualche secondo prezioso sul gruppo che vedete molto prudente procede anche in queste fasi moldi curve con asfalto reso viscito dalla pioggia mentre i due davanti in questo momento vedete proprio il corridore della cene morici a dettare l'andatura con alle sue spalle alla sua ruota proprio imad secac ci cerca di organizzarsi alle spalle dei due battistrada vedete la situazione molto fluida in questo momento il plotone si è quasi spaccato in due tronconi con un gruppetto più numeroso a dettare il ritmo davanti e un buco con un altro con il resto del gruppo dietro davanti invece vedete la pedalata è molto fluida i due atleti in ottimo accordo procedono nella loro azione davanti con la maglia bianca ora la rivedete vedete anche se è tolto la mantellina da qualche chilometro potete riconoscere proprio la maglia di campione marocchino di mad secac e con lui il siciliano morigi ma dietro sembra che il gruppo stia recuperando terreno in questa fase di gara una trentina di secondi il loro vantaggio lo scenario sempre nell'alto piano di clusone davvero molto bello e molto impegnativo per questi corridori ripresi i due nuova azione al comando protagonista però è ancora lui imad secac lo vedete in seconda ruota il nuovo compiagno di avventura in questo caso è il comasco leonardo gianni della canturino 1902 davvero una grande giornata quella del campione marocchino infaticabile l'avevamo visto all'attacco prima si trova all'attacco nuovamente adesso il gruppo sembra lasciare fare anche se questi due ragazzi che si trovano al comando in questo momento sono sicuramente da tenere d'occhio perché si tratta di due atleti di sicuro spessore di grandi qualità e anche molto forti sul passo e in salita ricordo il campione marocchino imad secac del team giorgi e leonardo gianni della canturino qui si è formato un drappello di inseguitori alle spalle dei due battistrada vedete un gruppetto di uno due tre quattro cinque sei sette otto corridori ci pare di scorgere con il numero quattro è carmelo laudani della scusate il numero sei matteo morici ancora che l'avevamo visto già protagonista poc'anzi in ultima ruota e questo gruppetto di inseguitori che prova a riportarsi sulla testa della corsa ma la situazione è davvero molto fluida questo è un gruppetto che si trova ora a mezza via che sta cercando di inseguire proprio gli uomini di testa si tratta stiamo risalendo il gruppo ecco vedete la situazione è molto sparpagliata ci sono corridori allungati questo è il gruppo di testa ci sono altri corridori che hanno raggiunto in questo momento imad secac e leonardo gianni si tratta di leonardo di lorenzo salvetti del team lvf gabriele palmiri dell'aspiratorio telli federico mazzotti della ferral pimonte clarense stefano sala dell'equip corbettese alessandro motti della canturino compagno quindi di gianni e michele bonauro della usonia csi pescantina che in questo momento è detta l'andatura ma la situazione è molto fluida rientrano altri corridori in testa al gruppo vedete il gruppetto di testa ora è molto più numeroso suona la campana in piazza dell'orologio ci sono c'è un questo gruppo che sta comandando la corsa alle loro spalle altri due corridori si tratta di raimondi della hotelli e luca volpi della team lvf questo il terzo gruppetto degli inseguitori trainato proprio dal padrone di casa molto atteso davide persico della scuola ciclismo cene che davvero una forte trainata la sua per provare a rientrare sulla testa nella corsa e si avvicina si avvicina persico dalle retrovie il gruppo di testa si studia un pochetto in questo ultimo giro e quindi perde qualche posizione qualche millisecondo prezioso mentre dalle retrovie con grande piglio cercano di rientrare anche gli altri corridori compreso il padrone di casa davide persico lo vedete proprio impegnato nell'inseguimento nel frattempo davanti rompe gli indugi questo corridore lo vedete si tratta di alessandro fancellu con il numero 73 altro portacolori della canturino 1902 che visto che dietro non c'era un più un grandissimo accordo e dalle retrovie si stavano anche avvicinando i principali inseguitori decide di fare tutto da solo nel corso dell'ultimo giro scatta se ne va lascia si lascia alle spalle gli ex compagni di fuga e tutto solo affronta circa gli ultimi circa 20 chilometri di gara davvero poderosa la sua azione deciso un successo finora in stagione per lui aveva vinto proprio ad inizio stagione poi tanta sfortuna diciamo tanta tanti piazzamenti tanti secondi posto e vittorie che potevano essere alla sua portata che invece non sono arrivate assume anche la posizione di cronomen nel finale per guadagnare sempre più secondi ed eccolo qui ce la fa ce la fa con un vantaggio di addirittura di un minuto e 37 alessandro fancello a tagliare per primo il traguardo di clusone del criterium 648 secondo il padrone di casa davide persico a un minuto e 37 secondi della cene poi imad secac del giorgi quarto leonardo gianni della canturino quinto martir nesner a un minuto e 40 poi alex raimondi settimo alessandro motti ottavo nicolás dresti del team lwf nono posto per il bravissimo stefano sala dell'equipe corbettese decimo luca volpi qui la festa dei ragazzi della canturino ma sentiamo le parole del vincitore alessandro fancellu canturino 1902 una grande prestazione una grande vittoria qui a clusone possiamo dire proprio che è una bella vittoria no la seconda della stagione sì sì oggi è arrivata finalmente questa seconda vittoria stagionale dovevo diciamo un po rifarmi perché ne avevo buttati via un po troppe di gare ultimamente quindi oggi ci tenevo appunto a rifarmi tutti mi l'ultimo giro attaccato deciso e sono riuscito arrivare all'arrivo quando hai capito che potevi farcela da arrivare da solo dopo la dopo la salita l'ultima salita perché inizio discesa abbiamo attaccato io e persico poi sono riuscito a andar via da solo appunto in fondo alla discesa fatto la salita dopo a tutta e sono arrivato in cima visto che dietro non c'era nessuno e ho proseguito fino all'arrivo seconda vittoria della stagione a chi la vuoi dedicare ma come detto prima la voglio dedicare sicuramente ai miei compagni che anche oggi mi hanno aiutato soprattutto all'inizio gara a tutto lo staff gli allenatori preparatori che ci seguono al meglio e appunto ci permettono di di far bene alle gare e anche ai miei genitori che fanno tanti sacrifici per me spero di ripagarli davide persico scuola ciclismo cene un secondo posto qui a clusone che forse forse lascia un po di amaro perché immagino che ti sarebbe piaciuto vincere ma sicuramente un grande piazzamento in una gara difficile e impegnativa sì sicuramente vincere sempre bello però anche secondo posto a clusone va bene perché per la gara che era era molto dura e mi contento così era un po la gara di casa per te per la tua società è stato immagino bello correre tanta gente un percorso in selettivo e una partecipazione molto qualificata è stata una bella gara possiamo dire che la è promossa anche da voi atleti sì esatto è stata un bel percorso era molto bello e altrettanto duro quindi sempre cercato di stare lì davanti e nelle prime posizioni poi quando fanciallo partita ne va più le gambe ha fatto il secondo posto che va bene imad seca che campione marocchino portacolori del team fratelli giorgi terzo qui a clusone un piazzamento sicuramente importante ma direi una prestazione la tua importante una grande corsa che abbiamo visto sempre davanti sei soddisfatto sì sono molto soddisfatto oggi ho provato a attaccare subito dal primo giro sono stato fuori tutto il giorno e era meglio vincere ma va bene anche un terzo posto sicuramente dimostrato di avere una grande condizione l'ho dimostrato anche la con la conquista del titolo della nazionale del tuo paese da qui alla fine della stagione quali sono i tuoi propositi devo ringraziare il mio allenatore marco cattagno che mi sto preparando bene per per una per il mondiale adesso la condizione è buona sto perdendo un po di chili e spero di migliorare sempre di più che ci sono i tuoi